sto bevendo il caffè eccole qua c'è i cagnolini che stanno dormendo stanno riposando da sì sì la biba stanno bene tutto ok buongiorno a tutti di nuovo buongiorno buongiorno buon inizio la settimana e buon lunedì ormai siamo più di metà gennaio allora le previsioni 10 all'otto serari del 17 gennaio per tre colpi ok per tre colpi sono 4 più 4 sono otto numeri chi vuole giocarli insieme oppure divisi come ho messi come volete voi ok chi non è ancora iscritto nel canale ragazzi iscriviti tanto le previsioni sempre state dati gratuitamente ho cambiato il metodo di nuovo di gioco e speriamo che facciamo un botto con il cuore veramente almeno per così pagate le vostre bollette e le vostre cose così le levati un po' di peso ok ok le previsioni sono questi ok 6 24 42 54 e poi abbiamo il 33 60 65 90 se escono tutti otto insieme facciamo la festa grandi a tutti facciamo festa grandi ok allora dal 17 gennaio per tre colpi chi vuole giocarli divisi 4 più 4 oppure giocateli insieme con oro doppio oro anche l'extra ok oro doppio oro extra oppure chi vuole giocare divisi come faccio io di solito solo con l'extra così non spenditi tanti soldini ok ok boh che ha la possibilità di giocare oro doppio oro come volete che non ha possibilità giocate solo con l'extra oppure il normale senza buttare via soldi basta guadagnare basta basta prendere giusto una piccola vincita tipo 90 euro oppure se gioco con l'extra sono 225 euro se escono tutti quattro sull'extra tutti quattro ok tutti tutti quattro se escono sull'extra sono 225 extra extra ok oppure tutti insieme vedete voi come volete voi ok allora chi che mi segue non sa come funziona mettiti sempre scriviti sempre il vostro commento io seguo sempre e leggo sempre il vostro commento e grazie siete tantissimi sempre come sempre e grazie sempre quelli che mi salutano sempre io leggo e seguo quelli che mi seguono e grazie mille gentilissimi che perché è stato un periodo che stavo poco bene adesso sto prendendo diciamo piano 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 ok buona buona settimana a tutti alla prossima milioni dei sono già disponibili lo trovate nel canale youtube alla prossima ciao ciao da karim sto bevendo il caffè eccole qua c'è i cagnolini che stanno dormendo stanno riposando la sisi la viva stanno bene tutto ok buongiorno a tutti di nuovo buongiorno 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 buon inizio la settimana e buon lunedì ormai siamo più di metà gennaio allora le previsioni 10 all'8 serali del 17 gennaio per tre colpi ok per tre colpi sono 4 più 4 sono 8 numeri chi vuole giocarli insieme oppure divisi come ho messi come volete voi ok che non ancora scritto nel canale ragazzi iscriviti tanto le previsioni sempre stati dati gratuitamente ho cambiato il metodo di nuovo di gioco e speriamo che facciamo un voto con il cuore veramente almeno per così pagate i vostri bolletti e i vostri cosi così le levati un po di un po di peso ok ok le previsioni sono questi ok 6 24 42 54 e poi abbiamo il 33 60 65 90 se escono tutti 8 insieme facciamo la festa grande a tutti facciamo festa grande ok allora dal 17 gennaio per tre colpi chi vuole a giocarli divisi 4 più 4 oppure giocateli insieme con oro doppio oro anche l'ex ok ok oppure chi vuole a giocarli divisi come faccio io di solito solo con l'extra così non spenditi tanti soldini ok ok boh che ha la possibilità di giocare oro doppio oro come volete che non ha la possibilità giocate solo con l'extra oppure il normale senza buttare via soldi quindi basta guadagnare basta basta prendere giusto una piccola vincita tipo 90 euro oppure se gioco con l'extra sono 225 euro se escono tutti 4 sull'extra tutti 4 ok tutti tutti 4 se escono sull'extra sono 225 extra extra ok oppure tutti insieme vedete voi come volete voi ok allora chi che mi segue lo sa come funziona mettiti sempre scriviti sempre il vostro commento io seguo sempre e leggo sempre il vostro commento e grazie siete tantissimi sempre come sempre e grazie a sempre quelli che mi salutano sempre io leggo e seguo e quelli che mi seguono e grazie mille gentilissimi e che perché è stato un periodo che stavo poco bene adesso sto prendendo diciamo piano 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 ok buona buona settimana a tutti alla prossima milioni dei sono già disponibili lo trovate nel canale youtube alla prossima ciao ciao da karim